è il logo della città è quello della città e noi rappresentiamo la città però non è il logo di una società è della città ma se il logo di una società comunque visto che avete fatto il gagliardetto quindi ok guarda io ho visto su quale no non è fermato niente bisognava dare comunque un abito nuovo anche per non ritornare indietro è stato fatto la mattina nel pomeriggio anche per un discorso commerciale della società ma comunque ho visto su qualche forum qualche proposta di logo e di voto e vedremo stiamo seguendo anche quello ci sarebbe poi può mangiare un sondaggio no ma è stato fatto questo può essere già la teoria già ci siamo basta che non facciamo come lo Bari perché oggi il Bari ha presentato il suo luogo ufficiale ha tolto il galletto e ha lasciato la festa noi non vorremmo togli il torno e lasciare le colpi questo va a spaccare non c'è io ci spacca mi dirà qualcosa da paresta è stato fatto la festa è stato fatto la festa